Da oltre 40 anni, Robopac si distingue come una delle principali realtà leader nella produzione di macchine per l'imballaggio. Qualità e innovazione sono gli aspetti distintivi che la lunga storia di Aetna Group, di cui siamo parte integrante, ci consente di spendere in tutto il mondo, vantando un'importante specializzazione nel packaging secondario e nel fine linea. La nostra ampia gamma di prodotti è progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti, con una cura mirata e dettagliata. Per soddisfare le richieste altamente customizzate, abbiamo scelto le soluzioni tecnologiche Pack Drive 3 di Schneider Electric. Le macchine incartonatrici TC500, 600 e il gruppo di palettizzazione 2ML Ares, sviluppate per il mercato food and beverage, ne sono un esempio. Questa soluzione offre un approccio plug and play ad alta modularità, sia sulla parte hardware che software, che permette di adeguare le macchine in maniera semplice e veloce alle esigenze dei clienti. Inoltre, questa tecnologia permette di standardizzare il quadro elettrico anche al variare dei moduli macchine. Con la soluzione Pack Drive 3, RoboPack ha facoltà di modificare rapidamente la fardellatrice anche in fase di collaudo macchina, a seguito dalla richiesta del cliente di aggiungere un formato o una nuova funzione. Questo aspetto, per chi progetta e costruisce macchine adattabili alle richieste dei clienti, è impagabile, perché riduce in maniera considerevole i tempi di sviluppo e collaudo. Attraverso le librerie della robotica di Schneider Electric siamo in grado di realizzare progetti complessi in tempi ridotti. Inoltre, questa tipologia di macchine si caratterizza per un alto livello di efficienza energetica, poiché, grazie a un DC bus comune, i servomotori brushless funzionano anche come generatori di energia, con la possibilità di garantire fino al 40% di riduzione dei consumi elettrici. In Schneider Electric abbiamo trovato un partner in grado di sopportarsi nei nostri progetti di innovazione e di garantire un impatto importante per migliorare l'efficienza delle nostre soluzioni.